Carissimi amici benvenuti all'appuntamento con Autofrancia, vi ricordo l'indirizzo Corso Francia 341 a Torino e vi ricordo che siamo aperti 7 giorni su 7 anche il sabato e la domenica. Restate con noi, questa è una puntata davvero strepitosa perché questo mese Autofrancia ha delle offerte veramente da scoprire perché ci sono degli sconti pazzeschi sia che vogliate un'autovettura nuova o che vogliate un'autovettura d'occasione aziendale e chilometri zero. Ma andiamo con ordine, come vedete siamo nel showroom delle autovetture nuove, lo vedete anche dalla nuovissima Jeep Compass qui di fianco a me vedete alle mie spalle 500X, come vedete come vi ho già detto tutta la gamma Fiat Alphalanche Jeep in pronta consegna quindi siamo in grado di consegnarvela in pochissime ore, gli sconti questo mese come dicevo sono incredibili pensate se siete possessori di un'autovettura da rottamare è il mese giusto per comprare l'autovettura perché Autofrancia vi fa fino a 5 mila euro di sconto sulle autovetture nuove e pensate che anche sulle autovetture d'occasione aziendale e chilometri zero Autofrancia vi fa lo sconto a rottamare fino a 3 mila euro per la vostra vecchia auto da rottamare. Supervalutazione del vostro usato, quindi siamo in grado di supervalutare le vostre autovetture che ci dovete restituire sconti fino al 50% sulle autovetture d'occasione aziendale e chilometri zero, quindi pensate sconti veramente pazzeschi sulle alternative al nuovo Autofrancia ne ha messo oltre 400 a vostra disposizione quindi è impossibile non trovare quella che state cercando al prezzo fatto su misura per voi. Tutte le offerte di questo mese chiaramente potete anche finanziarle, potete decidere le modalità di pagamento senza nessun problema se volete le potete pagare per contanti, se preferite potete aderire a tutte le offerte di FCA Bank, questo mese le offerte sono pazzesche pensate lo sconto meno mille, i finanziamenti che arrivano fino a 96 mesi se volete fare le mini rate, quindi rate bassissime oppure potete sfruttare il noleggio a lungo termine sia che siate possessori di partita IVA o che siate dei clienti privati o meglio ancora potete sfruttare il modo nuovo di acquistare la vostra autovettura targata Autofrancia, il TTC Autofrancia tutto tutto compreso, ve lo spiego in due parole, concorderete un canone mensile con i nostri professionisti che non vi dia fastidio, all'interno avete servizi a 360 gradi, in buona sostanza non dovete pensare più a nulla zero pensieri, avete assicurazione furto incendio, atti vandalici, eventi naturali, eventi sociopolitici, i cristalli vi diamo la minicasco, 5 anni di garanzia a chilometraggio illimitato, i tagliandi per tutto il periodo della garanzia non dovete neanche più pensare al cambio gomme perché vediamo gomme stive e gomme invernali quindi qualunque cosa succeda sulla vostra autovettura pensiamo a tutto noi adesso restate con noi, ci trasferiamo nei padiglioni delle autovetture d'occasione aziendale km 0 occhio perché ci sono delle offerte da non perdere siamo nel primo showroom delle autovetture d'occasione aziendale km 0 e partiamo subito con la prima offerta parliamo di Fremont, 2.000 turbodiesel, 170 cavalli 4x4, cambio automatico e aziendale solo 12.900 euro altra 4x4, questa volta parliamo di 500X, siamo al top di gamma, 1.400 multi-air, 170 cavalli quindi prestazioni da brivido, cambio automatico a 9 rapporti, ve la proponiamo nuova km 0 a 23.900 euro veramente un prezzo fantastico, prezzo promo per questa Panda Twin Air, quindi 900 benzina turbo 85 cavalli 4x4 se dovete arrampicarvi in montagna, questa è l'autovettura giusta per voi Autofrancia ve la propone a 12.900 euro, come vedete è scritto sul cristallo vi ricordo che tutte le autovetture km 0 e aziendali, volendo potete sfruttare il pacchetto TTC il modo nuovo di acquistare la vostra autovettura con zero pensieri parliamo di 500X, questa volta sempre cross 4x4 ma turbodiesel, 140 cavalli anche questa con cambio automatico, lo vedete scritto lì sul cristallo, è regalata a 17.900 euro se cercate una Panda abbiamo sicuramente la soluzione che fa per voi perché ne abbiamo oltre 50 a vostra disposizione, abbiamo sia le km 0 che le aziendali pensate le aziendali partono da 6.400 euro e le km 0 da 7.400 euro impossibile non trovare quella che state cercando Fiat Idea super economica 4.900 euro, 1.3 multigetto 95 cavalli del 2010 abbiamo anche le straniere Hyundai i10, login con bluetooth, ingresso usb e fendi nebbia a 9.300 euro siamo in stagione per 500 cabrio, 1.2 la versione lounge, nuova km 0 a 13.900 euro ecco le Panda a km 0 che partono da 7.400 euro, se volete anche delle super economiche abbiamo proprio un reparto dedicato a loro, questa è una super economica 4.900 euro una Panda Dynamic, ecco qui le aziendali, le Panda, guardate aziendali 6.400, la km 0 8.900 Kia venga, 1.4 90 cavalli, GPL del 2013, ve la proponiamo a solo 9.900 euro seguiteci perché l'Auto Francia le offerte non finiscono mai, vedete lì un Doblot da spendere poco 8.900 euro, Jaguar X-Type potete realizzare un sogno con pochi euro parliamo di una macchina di grande prestigio, cambio automatico, cerchi in lega, interni in pelle solo 7.900 euro, veramente un'auto da comprare per chi apprezza questa tipologia di auto Volkswagen Polo, Trendline 5 porte del 2016 a 8.900 euro, anche qui super economica la Bravo 1.4 16 valvole 95 cavalli, dinamica con l'impianto Eco-GPL montato da casa madre a 5.200 euro super offerta, si sta cercando un Ducato Panorama, quindi trasporto persone, questo a 9 posti Panorama 2.3 Multijet, 130 cavalli, pensate che ha percorso solo 19.000 chilometri e del 2015 l'offerta è imbattibile, 17.900 euro proseguiamo con Opel Corsa, come vedete abbiamo anche le straniere, questa è una 1.2 bicolor 69 cavalli, nuova chilometri zero, Autofrancia per questo mese ve la propone a 11.800 euro, offerta pazzesca su punto, ha riscorso veramente un grande successo il mese scorso, ne abbiamo messo altre 5 a vostra disposizione, parliamo di punto, 1.2 street nuova chilometri zero con un prezzo che vi garantisco è davvero imbattibile, hanno tutto clima, servosterzo, ABS, airbag, vetro elettroci, chiusura centralizzata, radio, CD, MP3, il navigatore satellitare, non state sognando, nuova chilometri zero a 7.880 euro, se la volete con impianto EcoGPL ve la diamo con solo 1.000 euro in più, quindi 7.880 benzina, 8.880 con impianto EcoGPL, se la volete finanziare e non volete darci anticipo non c'è problema, pensate, le rate partono da 119 euro mensili, chi vi dà un'auto nuova a questo prezzo con questa rata succede solo qui nell'autofrancia ma solo questo mese. Siamo entrati nel secondo padiglione delle autovetture, do occasione aziendale chilometri zero, restate con noi perché le offerte all'autofrancia non finiscono mai, Alfa Mito 1.4 78 cavalli, nuova chilometri zero, la possono guidare anche i neopatentati con la radio Taci, cerchi in lega, le pinze rosse, i fendi nebbia, ha veramente tutto, nuova chilometri zero, solo 10.900 euro, volendo disponibile anche con impianto EcoGPL con solo 1.000 euro in più, quindi 11.900 euro, ne abbiamo ancora due aziendali a un prezzo pazzesco, solo 9.500 euro, quindi se cercate una Mito abbiamo la soluzione che fa per voi, vi stiamo regalando una 500 1.200 lounge, 69 cavalli col tetto panoramico, veramente full optional, nuova chilometri zero, scritto sul cristallo 9.900 euro, volendo anche interamente finanziabile, con rate da poco più di 140 euro mensili, vi ricordo le panda chilometri zero che partono da 7.400 euro, ecco qui un'altra Mito a vostra disposizione, Gip Renegade, 1.600 turbodiesel, 120 cavalli, limited, chilometri zero a 22.500 euro, questa 500 l'abbiamo appena venduta, ma come già detto ne abbiamo oltre tantissime a vostra disposizione, su tipo ci soffermiamo dopo perché abbiamo un'offerta pazzesca, Opel Crossland 1.200 GPL 80 cavalli, advanced con l'impianto GPL 16.900 euro, vi ricordo le panda chilometri zero, abbiamo le GPL, benzina 4x4 come questa che vedete inquadrata, nuova chilometri zero, vi facciamo anche scegliere il colore, ecco qui una tipo 4 porte con l'impianto GPL appena venduta, ma adesso ci soffermiamo su tipo, 1.300 multijet, 95 cavalli, easy a 12.900 euro, tipo 5 porte, appena arrivata da apprezzare un prezzo incredibile, vi ricordo le punto aziendali che partono da 6.500 euro, come vedete stanno andando a ruba, questa è appena venduta, ecco qui la Fiat tipo offerta del mese, tipo 1.400, 16 valore, 4 porte, la versione easy, nuova chilometri zero con tutto, la radio touch, il fendinebbia, i sensori di parcheggio, nuova chilometri zero a solo 10.900 euro, volendo disponibile anche con l'impianto EcoGPL con solo 1.000 euro in più, quindi 19 benzina, 11.9 con l'impianto EcoGPL, anche qui volendo potete finanziarle con rate che partono da 149 euro mensili, quindi veramente rate bassissime, ne abbiamo ancora disponibili tre a vostra disposizione aziendali che partono da 9.500 euro. Eccoci purtroppo siamo giunti in chiusura, il tempo a nostra disposizione sta per terminare, facciamo un riepilogo di questa puntata, avete visto quante autovetture Autofrancia ha messo a vostra disposizione, ma se non l'avete vista in questo filmato, l'autovettura giusta per voi sicuramente ce l'abbiamo, consultate il nostro sito www.autofrancia.it super aggiornato o meglio ancora telefonateci o veniteci a trovare perché ci siamo 7 giorni su 7 anche il sabato e la domenica, avete visto veramente le offerte pazzesche tipo la Punto, le Panda, abbiamo veramente tantissime soluzioni, abbiamo anche le auto straniere, chilometri zero e aziendali, quindi sicuramente abbiamo la soluzione che fa per voi come già detto. Come dicevo in chiusura volevo ancora ricordare gli sconti che questo mese Autofrancia ha messo a vostra disposizione, quindi 5.000 euro fino a 5.000 euro di sconto d'automazione sulle autovetture nuove, fino a 3.000 euro di sconto d'automazione sulle autovetture d'occasione aziendali chilometri zero, supervalutiamo il vostro usato, sconti fino al 50% dal prezzo di listino sulle autovetture d'occasione aziendali e chilometri zero, quindi veramente abbiamo delle offerte da sfruttare, questo è il mese giusto per comprare la vostra nuova autovettura. Come pagarla? Lo decidete voi, non mi stancherò mai di dirvelo, venite qui, troverete dei veri professionisti a vostra completa disposizione che troveranno la soluzione fatta su misura per voi, siamo in grado di soddisfare al 100% tutte le vostre esigenze. Potete poi fare un pagamento per contanti, potete fare un finanziamento con FCA Bank, ci sono delle offerte pazzesche con finanziamenti con il finanziamento meno mille, le minerate fino a 96 mesi, potete sfruttare se volete sperimentare il noleggio a lungo termine, sia che siate possessori di partita IVA, che siate dei clienti privati, potete fare noleggio a lungo termine, oppure potete anche sfruttare il modo nuovo di acquistare la vostra autovettura targata Autofrancia, il TTC Autofrancia, tutto tutto compreso Autofrancia. Concorderete un canone mensile con i nostri professionisti, all'interno avete servizi a 360 gradi, assicurazione furto incendio, attiva andalice, eventi naturali, sociopolitici, cristalli, laminicasco, cinque anni di garanzia, il cambio gomme, i tagliandi, non pensate più a nulla, pensiamo a tutto, noi avete veramente zero pensieri. Quindi non mi resta che salutarvi, volevo ringraziare tutti voi telespettatori che avete scelto Autofrancia, che ci venite a trovare, sia che facciate un preventivo o che compriate, veramente per noi è una grande soddisfazione. Volevo anche ringraziare tutti i telespettatori che arrivano da fuori Torino, dalla provincia di Alessandria, provincia di Asti, Cuneo, Biella, dalla Liguria, dalla Valle d'Aosta, veramente un grazie enorme da noi, tutto lo staff Autofrancia perché fate un grande sacrificio per venirci a trovare, ma veramente la nostra soddisfazione è veramente al 100% vedervi soddisfatti in tutto e per tutto. Quindi vi do l'appuntamento, Corso Francia 341 a Torino, sette giorni su sette, il posto giusto per comprare la vostra autovettura è proprio qui da noi, all'Autofrancia. Vi aspettiamo.